Benvenuti allora a questo nostro primo appuntamento su un argomento assai piacevole e vuole essere, come nelle intenzioni e nella mente dei suoi creatori, un appuntamento di condivisione. Questa sera forse non impareremo nulla di nuovo o forse conosceremo posti, conosceremo opere che fino ad oggi non avevamo mai visto, ma il vero intento è quello della condivisione. Come sapete l'arte scatena in noi moltissime emozioni e queste emozioni certamente lasciano un segno all'interno della nostra vita. Se siamo all'interno di questa associazione, se amiamo l'arte, se amiamo l'antiquariato, che è sempre una piccola parte dell'arte, certamente significa che siamo stati segnati, che siamo stati toccati dall'arte. E quindi l'intento di questo museo immaginato è quello di condividere tutti insieme quali possono essere quelle emozioni che l'arte ha suscitato e soprattutto quali sono le opere d'arte che ci hanno avvicinato proprio a questo enorme mondo, fatto di immagini, di suoni e proprio di emozioni. Allora l'intento è quello di dividerci, suddividerci in tre incontri e le regole del gioco sono abbastanza semplici. Chiunque abbia voglia di condividere con gli altri dell'associazione e con gli amici le proprie emozioni e le proprie opere d'arte, allora ha solo dieci minuti a disposizione, che devo ammettere per me essere veramente pochissimi, ma mi concentrerò abbastanza per essere rapido, soltanto dieci minuti, per illustrare le tre opere del cuore. Le tre opere che vorremmo inserite in un museo che evidentemente non esisterà mai, ma esisterà forse nei nostri cuori e forse anche a livello multimediale. Questa è una sorpresa dell'ultimo appuntamento che ci sarà poi al fondo. La struttura delle nostre chiacchierate è abbastanza semplice. Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco parlerà questi dieci minuti famosi e poi alla fine gli ultimi dieci minuti saranno dedicati ad Antonella, perché Antonella ci racconterà, ci illustrerà ogni volta un luogo diverso, un contenitore diverso, dove poter mettere, far stare, far vivere queste opere d'arte. Quindi niente di più facile se non quello di iniziare insieme. Come vedete l'incontro è ogni 15 giorni, si inizia oggi, 25 aprile, che non è proprio un giorno qualunque, e poi ci troveremo il 9 maggio e il 23 maggio. La speranza naturalmente è riuscire a frapporre fra questi incontri anche dei primi timidi, piccolissimi incontri dal vivo. Oggi forse si è aperto qualche speraglio, quindi perché no? Unire queste chiacchierate poi a veramente vederci dal vero e condividere dal vivo. Allora vorrei iniziare io, siccome ho fatto le regole, è giusto che io sia il primo a partire, e raccontarvi in dieci minuti quali sono le mie tre opere del cuore. Come voi sapete io mi occupo di arte nella vita e quindi è molto difficile per me poter e dover decidere fra le migliaia di opere che conosco, che ho visto, che ho maneggiato. E quindi vorrei condividere con voi il perché io abbia scelto queste tre, così come potevo sceglierne molti di più. Il primo che vi presento è il trittico, è il famoso trittico di Defendente che sta alla Sabauda del 1523, perché è datato, e come sapete Defendente Ferrari è uno dei maggiori esponenti del rinascimento piemontese. Non si può definire un artista pienamente rinascimentale, Defendente, perché come vedete, poi ho messo alcuni ingrandimenti dopo, è il passaggio fra il gotico tardo, il gotico elegante, il gotico ancora pieno di ori, di gemme, di formalità, prima di un rinascimento che come sapete in Piemonte arriverà, forse all'attezza del 1523, in un certo senso è già arrivato perché arriva tramite Gaudenzio Ferrari. Perché ho scelto quest'opera? Ho scelto quest'opera perché personalmente rientra nel mio percorso di studi, avendo io dedicato alcuni anni, un paio d'anni, a studiare proprio Defendente Ferrari. Penso che questo trittico rispecchi al massimo la qualità compositiva, realizzativa del nostro Defendente Ferrari. È un trittico non di grandi dimensioni, non ho riportato le dimensioni, ma credo che non arrivi nemmeno al metro di larghezza, ed è interessante che sia ancora montato a trittico, che è una cosa che in Piemonte era assai rara, e invece il nostro Defendente evidentemente lo importa dal nord dell'Europa. Guardate la raffinatezza della composizione con un omaggio, con un'adorazione dei magi al centro, ancora con gli ori a pastiglia, quindi con gli ori che risaltano sulla tavola, e a sinistra e a destra due scene, sempre della vita di Cristo. A sinistra un Natale, possiamo chiamarlo un presepe, con sottoscritto Quem Genuit Adoramus, colui il quale abbiamo generato adoriamo, e sulla destra attendite e vedete, cioè attendete, aspettate e vedrete poi la resurrezione, perché è un imago pietatis sotto, il Defendente usa l'eccezione Ece Homo, ma non è corretta, perché per noi l'Ece Homo è il Cristo presentato alla folla. Eppure vedete che il Cristo viene proprio messo in evidenza sul suo sepolcro. Questo è un ingrandimento per farvi vedere la raffinatezza e la qualità del nostro Defendente. L'emozione che si prova, o meglio che io ho provato, a lavorare direttamente sulle tavole del nostro Defendente è unica, perché si colgono i mille particolari sul quale il nostro Defendente si sofferma, i copricapi gli uni diversi dagli altri, i tre doni dei Re Magi e che uno finisce in mano al nostro San Giuseppe. E San Giuseppe lo apre, perché ha bisogno di vedere che cosa c'è all'interno. È meraviglioso. Il Re Magio inginocchiato con la corona a terra, una cosa sulla quale io poi ho scritto un brevissimo intervento. Eppure il nostro Defendente si vede al meglio in queste strutture, guardate, in queste architetture fortemente scorciate e al fondo un edificio tutto tondo. Guardate che meraviglia. Oppure queste mura merlate. Le due piccole ante che si chiudono a loro volta sono dei piccoli gioielli, anche perché Defendente probabilmente era figlio di un e quindi Defendente è capace di lavorare anche sulle piccole cose, quasi come se fossero piccole miniature. Guardate, in punta di pennello riesce a rendere in tre dimensioni un personaggio che esce dalle mura, oppure una vecchia che esce da una porta di legno, completamente disassata. È incredibile in pochi millimetri come riesca a risolvere tutta questa cosa, questi piccoli passaggi. Eppure è un narratore meraviglioso, Defendente, è un narratore elegante, è un narratore formale, è un narratore che semplicemente ancora non sente il bisogno di adeguarsi al rinascimento che sta arrivando. Volevo farvi conoscere un Defendente molto molto ravvicinato. La seconda opera che ho scelto si va in Spagna, si va in Spagna. L'ho scelta non perché sia particolarmente bella o particolarmente famosa, ma perché penso che rispecchi un po' il momento che stiamo vivendo. L'opera, spero l'abbia riconosciuta, è Goian, che realizza nel 1797, poi edito nel 1799, il sogno della ragione, il sogno della ragione genera mostri. Ed è un'acqua forte, un'acqua tinta, quindi una tecnica, possiamo dire, di incisione, non è una pittura. E volevo sottolineare con la presenza di questa opera geniale di Goia due letture differenti. La prima lettura è certamente quella che è forse più facile, è quella che forse salta più all'occhio, ovvero il sogno della ragione genera mostri. E oggi è il giorno giusto per ricordare che quei mostri forse non devono più tornare. Questo forse è il giorno dove bisogna riflettere su quali mostri abbiamo affrontato e sui quali non dobbiamo più addormentarci. La seconda chiave di lettura, secondo me, è il fatto che la ragione, in un senso più lato, in un senso più ampio, certamente sia leggibile come la cultura, la cultura generale. Quindi in un momento difficile come questo, in un momento dove forse la cultura non è in cima ai bisogni primari, eppure il distrarsi, l'abbandonare la strada già percorsa della cultura, può certamente provocare mostri che saranno poi difficili da abbattere. Vi faccio notare come questi mostri, per Goia, siano dei mostri infernali, siano delle bestie veramente sataniche, questo felino con gli occhi sbarrati, o gli uccelli della notte, che sono proprio tipici del mondo diabolico, del mondo stregonesco, in un certo senso. Il sogno della ragione appartiene a una serie di incisioni di Goia che si chiamano il capriccio, e i capricci sono proprio delle incisioni che escono nel 1799 e hanno l'intenzione da parte dell'autore di andare a punzecchiare, a sottolineare, in un certo senso aggraffiare quali sono le superstizioni, le bassezze umane, quali sono quei meccanismi sociali che rendono l'uomo semplicemente ridicolo. Goia in questo momento è semplicemente un uomo libero, è un libero pensatore, e vuole giungere alla conclusione che l'uomo è ingabbiato all'interno di certe superstizioni, possiamo dire anche all'interno di certi riti magici e riti sociali che lo ingabbiano. E quindi per esempio vi porto il capriccio numero due, che si chiama Pronunciano il sì e forgono la mano al primo che arriva, quindi una feroce satira contro i matrimoni organizzati un po' velocemente dove non regna certamente l'amore, così per esempio come il capriccio 14 che si chiama Che Sacrificio, ed è una bellissima donna spagnola che si accinge a dire di sì a un uomo molto ricco però assai brutto, quindi dove il denaro addirittura riesca a comprare l'amore. Gli 83 capriccio sono meravigliosi, non sto a raccontarveli perché sto finendo il tempo, andate a leggerveli, li trovate ovunque su Wikipedia, su internet, insomma, sono veramente molto divertenti e la cosa interessante è che molti di questi proseguono ancora nel ventunesimo secolo, quindi come dire, o l'uomo non ha capito nulla dei suoi errori o semplicemente il nostro amico Goya ci aveva visto lontano. L'ultimo appunto che vi faccio è che io trovo la vita di Goya semplicemente meravigliosa, semplicemente meravigliosa, è uno di quei casi nella storia dell'arte in cui c'è da scrivere un libro sulla storia, un libro sulla sua psicologia, un libro sugli incontri che ha avuto e così via. Questo è il primo grande capolavoro conosciuto al Prado che si chiama El Parasol, il parasole detto anche l'ombrello e vedete che all'inizio il nostro Goya fa parte proprio di una corrente luminosa, di una corrente europea, di una corrente quasi da corte francese e conclude la sua carriera con le Venturas Negras. Non sembra lo stesso pittore, vi faccio rivedere il parasole e vi faccio rivedere due vecchi che mangiano, fanno parte di un ciclo che aveva fatto alla fine della sua vita il nostro Goya. Non sembra più lo stesso perché nella sua vita ha avuto mille traversie, ha perso tantissimi figli, ha perso una guerra e ha vinto una resistenza, insomma. Ne ha passate veramente di tanti tipi, è diventato sordo, quindi tutto questo ha inciso sul suo carattere, ma guardate alla fine l'ultima sua grande creazione di questo Saturno che mangia uno dei suoi figli, sembra un dipinto del Novecento, sembra un dipinto del 1950, invece è datato al 20-23. Poi lui morirà da lì a poco. È incredibile la sua trasformazione. Quindi da una parte il ragionamento sul sogno, su che cosa vuol dire la ragione, dall'altra parte la meravigliosa storia del nostro Goya. L'ultima opera, perché sono solo tre che ho scelto, riguarda i miei viaggi, avendo io viaggiato fortunatamente parecchio con la mia famiglia, certamente fra i miei viaggi quello più per me formativo, interessante e in un certo senso culturale è stato certamente avvicinarmi alla millenaria cultura cinese. Tra tutto questo mi porto nel cuore l'esercito di terracotta, che è un esercito, pensate, datato fra il 246 e il 206 avanti Cristo. Roma era repubblicana, quasi, e invece in Cina Qui Shanghung era un imperatore, un imperatore che era riuscito a unificare tutto quanto l'impero e quindi è colui che ha deciso da una parte la muraglia cinese e dall'altra parte di farsi tumulare, di farsi seppellire insieme a 8.000 soldati in terracotta. Si deve ancora capire perché abbia scelto proprio di farsi seppellire insieme a questi soldati di terracotta. Probabilmente perché si pensava che nell'aldilà lui ne avesse bisogno. Non si capisce se servivano da scorta nell'aldilà, anche perché forse aveva qualcosa da farsi perdonare, oppure se avesse intenzione di unificare anche l'aldilà. È una cosa molto interessante. Il concetto di immortalità. L'immortalità che passa attraverso 8.000 soldati che difendono un imperatore morto. È una cosa veramente veramente affascinante. Volevo farvi vedere in breve, ma veramente 5 minuti, solo per dirvi che i nostri soldati sono alti 1,80 per 160 chili, quindi abbastanza spessi, e vedete che venivano assemblati e montati. Lavorarono circa 700.000 artigiani a quest'opera per 40 anni e purtroppo quelli che alla fine rimasero vivi furono uccisi perché non rivelassero dove si era nascosto il tumulo del nostro imperatore. È molto interessante che ognuna di queste statue, che noi chiamiamo statue di terracotta, sotto sia stampigliata dall'operaio che l'ha messo in piedi. Questa è una bellissima foto che vi fa vedere che questo è in realtà la fossa 1, c'è la fossa 2 e la fossa 3, per farvi capire, insomma, di quante opere stiamo parlando, di che gruppo stiamo parlando. È tutto con una qualità impressionante. Questa è una mia fotografia, mi scuso perché è mossa, ma volevo farvi vedere, per esempio, che ne vengono estratti in continuazione, che vengono poi riassemblati come se fosse un piccolo ospedale dove vengono curati, curati e reincollati. Pensate che pazienza. Questo qui, per esempio, è tenuto insieme dal cellofan perché la colla deve fare effetto, la colla deve solidificarsi e di questo, per esempio, è andata perduta la testa. Quello forse è più bello, che è entrato un po' nell'immaginario collettivo, nei ricordi, insomma, di chi c'è stato e di chi ha visto una mostra abbastanza recente qui in Italia, è proprio l'arciere. Questo è uno degli arcieri che sono, come vedete, seduti proprio per prendere la mira. Non sono state trovate le armi perché probabilmente il mausoleo è stato saccheggiato, ma al momento in cui è stato saccheggiato sono state poi rubate le parti in bronzo o in oro, perché probabilmente alcuni erano anche completi con delle cose, con dei piccoli oggetti d'oro. E la cosa interessante, poi mi taccio perché ho passato i miei dieci minuti, è che erano tutti colorati, con dei colori meravigliosi, che però al momento dell'apertura di questi corridoi sono scomparsi, sono svaniti e questo è il motivo per il quale non si apre la camera dell'imperatore. Si sa dov'è, ma nessuno può aprirla, proprio per evitare che i colori svaniscano. Finché non si trova un metodo preventivo per non perdere i colori e non perdere le sostanze all'interno, non verrà mai aperta. Si sa dov'è, ma rimane un mistero. Con l'immagine di un dignitario io vi ringrazio, vi saluto e soprattutto è mio compito, ecco, passare la parola a Silvia. Volevo raccontarvi che Silvia fa parte del direttivo, forse non compare così spesso sui nostri schermi, come dire, dal punto di vista degli oratori, ma è attivissima e gran parte delle idee che poi mettiamo in pratica. Silvia aiuta a dargli una forma e soprattutto aiuta a delineare alcuni aspetti e noi la vorremmo ringraziare perché riesce sempre a, come dire, domare la fantasia mia di Antonella e quindi averla qui per la prima volta sui nostri schermi noi ascoltiamo, ascoltiamo. Grazie Silvia. Grazie, sì, premetto che sono stata costretta perché io sono una persona molto schiva, ma di fronte a Edo Berruti e Antonella non ce la faccio, quindi ho detto va bene, allora facciamo questa presentazione. Allora, io condivido con voi appunto le opere d'arte che mi emozionano e con una precisazione che le mie opere del cuore sono quelle davanti alle quali mi succede che di evocare, ecco, istintivamente certi ricordi della mia vita oppure davanti alle quali mi capita che quasi inaspettatamente affiorino in me certe emozioni, come dire letterarie, no? Mi spiego, magari straici di poesie o piccoli brani che io ho interiorizzato e che quella certa determinata opera mi suscita così immediatamente. Allora, la prima opera del cuore che vi presento è Opper, Edward Opper, Il faro a due luci, un'opera del 1929, un olio su tela di dimensioni importanti, 75 x 110, che io ho mai visto dal vivo, ma ho avuto il piacere di conoscere durante un corso di formazione al lavoro, proiettato, questo quadro proiettato su uno schermo e diciamo mi ha subito molto colpito e anche emozionato, per cui io non conoscevo Opper e da quel momento ho cercato, ho cominciato a conoscerlo. Quindi dirò anche a voi due brevi parole sulla vita di questo artista. Opper nasce nel 1882 in una piccola cittadina dello stato di New York, in una famiglia borghese che sin da piccolo lo incoraggia a leggere, a studiare l'arte, a disegnare. Il sogno di Opper sarebbe stato di fare l'architetto navale, ma per guadagnarsi da vivere, fa l'illustratore, ma si iscrive anche alla New York School of Art e dopo aver completato gli studi in questa scuola, dal 1906 al 1910 viaggia in Europa, soffermandosi soprattutto a Parigi, perché di Parigi ama molto gli impressionisti e anche i poeti simbolisti. Quindi nel 1910 fa ritorno poi in America, a New York, e lì vi rimane fino alla sua morte avvenuta nel 1967, proprio nel suo studio, muore nel suo studio a Manhattan. Come sapete questo artista è definito il pittore del silenzio e una sua biografa ha scritto che la sua pittura è una poetica della solitudine. Dunque molte delle opere di Opper sono vedute del New England e del Maine, come questa per esempio, che è una veduta di Cape Elizabeth nel Maine. Questo quadro è diventato molto famoso nel 1970 perché è stato utilizzato per un francobollo statunitense celebrativo dei 150 anni dello stato del Maine. Opper viene inserito nella corrente realista americana. Certo la realtà dei quadri in Opper è una realtà trasfigurata, molto vicina diciamo all'irreale. notiamo che Opper ha una tendenza a togliere, una tendenza diciamo riduzionista e questa tendenza fa sì che l'osservatore concentri proprio la sua attenzione sul fulcro, sul nucleo centrale del quadro. Quindi Opper, come dire, per la realtà viene prosciugata dal superfluo e rimane l'essenziale. Si tratta di composizioni, come molte altre che forse conoscerete, di composizioni senza tempo e quasi come congelate, ma sempre animate dagli effetti della luce, sia essa naturale oppure artificiale. Voglio condividere con voi un pensiero di un collega pittore, un certo Charles Barchfield, che in un catalogo di una retrospettiva del 1933 di Opper scrisse di lui una cosa che a me corrisponde molto e che appunto vi condivido. Barchfield scrisse di Opper. Opper ha saputo cogliere un momento particolare, quasi il preciso secondo, in cui il tempo si ferma, dando all'attimo un significato eterno e universale. E infatti guardando questo quadro sono affiorati in me i versi di una poesia di Montale, che si intitola La casa dei doganieri, che è una poesia della raccolta alle occasioni, scritta nel 1930, che in questa poesia, come nel quadro, diciamo che la comunicazione è negata sin da subito, perché infatti la poesia inizia, tu non ricordi la casa dei doganieri. E la leggiamo insieme alcuni pezzi, alcuni versi. Tu non ricordi la casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata, t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò il requieto. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo sa di pana. Ne tengo ancora un capo. Ne tengo un capo. Ma tu resti sola. né qui respiri nell'oscurità. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. E io non so chi va e chi resta. Ecco, mi piace moltissimo. C'è una solitudine in questa poesia, come nel quadro, ma sia nei versi che vi ho letto, sia il dipinto, sia i versi sia il dipinto, diciamo che immortalano l'attimo fuggente di una presenza, no? Appunto, una presenza assenza della persona amata. E questo a me ha dato una grande emozione. Bene. Il secondo quadro che vi presento, invece, è un quadro molto noto, l'Angelus di Jean-François Millet, dipinto negli anni fra 1857 e 1859. È un'opera molto nota, anche perché ha rappresentato un importante modello iconografico. Infatti, Van Gogh nel 1880 ne ha tratto uno studio a matita, a gessetto e a querello. E anche Salvatore Lissi è spesso riferito a questo quadro per trarne, ovviamente, delle visioni poi surrealiste. Millet è nato nel 1814 una piccola cittadina della Normandia da una povera famiglia contadina ed è morto nel 1875 a Barbizon. Millet raffigura il mondo contadino, cioè questi contadini come soggetti umili che sino ad allora erano stati pochi rappresentati e che compiono questi gesti con naturalezza e in una completa armonia con la natura che li circonda. Per Mie questo non rappresenta una denuncia sociale, ma vuole solo rappresentare il mondo contadino con questa grande partecipazione emotiva e talvolta anche un accento mistico, proprio come in quest'opera. Per me, come per Millet, questo quadro ha evocato un ricordo di infanzia, per me un ricordo molto bello intenso. Lo stesso Millet nel 1865 raccontava che all'origine del quadro anche per lui appunto c'era questo ricordo di infanzia e scriveva, l'Angelus è un quadro che ho dipinto ricordando i tempi in cui lavoravamo nei campi e mia nonna ogni volta che sentiva il ritocco della campana ci faceva smettere per recitare l'Angelus. Ecco, per me questo quadro ricorda mia nonna, mia nonna che era una donna, una contadina che aveva una visione profondamente religiosa della vita e a cui io devo molto della mia, diciamo, educazione per così dire spirituale. Come vedete quest'opera raffigura due contadini che sono intenti a pregare e interrompono proprio il loro lavoro nei campi per recitare l'Angelus. Come vedete l'uomo si è tolto il cappello come se fosse in chiesa, quindi un gesto che esprime un profondo rispetto per quel momento di preghiera, anche se era un momento semplice e quotidiano, mentre la donna congiunge le mani. E questa coppia di contadini che è isolata in mezzo a questa pianura immensa e deserta, vedete che assume un aspetto quasi monumentale proprio perché sottolinea la solennità e il clima spirituale di questa scena. I loro visi sono lasciati in ombra ma c'è una luce che sottolinea gesti ed atteggiamenti e poi considerando i colori utilizzati della luce siamo al tramonto, quindi all'Angelus della sera. Beh, questo quadro a me emoziona molto per questo senso di profondo raccoglimento che esprime e mi ricordo una frase che diceva mia nonna che aver fede non significa credere che Dio esista, ma credere che Lui ci ami. Ecco, in questo quadro io sento proprio rappresentata la fede come corrispondenza dell'uomo all'amore di Dio, quindi qui è rappresentato l'uomo che incontra Dio in modo semplice, in modo quotidiano, in ogni circostanza e situazione della vita, anche se faticosa come nel momento del lavoro nei campi. Ecco, e infine il terzo quadro che vi presento è anche celeberrimo, è la notte stellata sul Rodano del 1888 di Van Gogh. Anche questo quadro attualmente è conservato al Museo d'Orsay e prima era allo Joie de Pomme dove appunto lo avevo potuto ammirare 40 anni fa. Siamo nel 1888 e Vincent Van Gogh si trova ad Arles, una piccola cittadina sul delta del Rodano. Alla sera Vincent esce, cammina e così trae ispirazioni per i suoi lavori. E in effetti queste passeggiate notturne, da queste passeggiate notturne, nascono dei capolavori come per esempio anche la terrazza del caffè la sera che precede di un mese come dipinto la realizzazione di questo quadro che io ho scelto, questa notte stellata sul Rodano. Ecco, qui siamo di fronte ad un abbraccio secondo me, un abbraccio che avvolge tutto il paesaggio e che sembra ricomprendere anche tutte le stelle del firmamento. Secondo me questo quadro rappresenta proprio un grande sentire, un sentire che come dire supera lo stesso quadro e a me fa sprofondare proprio nell'incanto, nella magia e nel mistero di questa notte, di quella notte lì, ma anche della stessa vita. Van Gogh ha scritto che la notte gli appariva ancora più colorata rispetto al giorno e infatti in questo quadro lui riproduce proprio in modo esemplare direi i colori che percepisce nell'oscurità. Come vedete qui la tonalità dominante è il blu nelle sue varie sfumature, il blu di Prussia, l'oltremare, il cobalto e le luci della città brillano di questo arancio intenso, che adesso si vede poco ma comunque, e le stelle splendono nel cielo come delle pietre preziose. però, a differenza di quello che potrebbe sembrare, non sono le stelle a dare questa particolare luminosità alla scena, ma sono le illuminazioni a gas di Arles. Infatti una delle lettere a Theo, al fratello, Vincent scrive, in realtà il cielo stellato dipinto di notte è influenzato dai gas. Il gas è giallo e i riflessi sono di un ruggine oro. La parte del cielo è color acquamarina. L'orsa maggiore brilla verde e rosa in contrasto con il color oro acceso del gas. Due piccole e colorate figure diamanti sono in primo piano. Infatti, se voi vedete nella parte bassa della tela, ci sono questi due innamorati che, vabbè, qui non rendono tanto, ed è proprio la presenza di questi due innamorati che accresce questa atmosfera di grande serenità dell'opera. Perché, come vedete, tutto è calmo, come gli innamorati che sereni e tranquilli passeggiano lungo il fiume e dietro di loro ci sono tre barche che galleggiano sul Rodano, come se fossero pronte ad accogliere questa coppia, e a farla salpare lungo la rotta del loro amore. E allora questa scena così romantica, così serena, mi ha richiamato una poesia di Nazim Hikmet, un poeta turco, uno dei più importanti dell'epoca moderna, che è compresa nella raccolta Poesie d'Amore, che è uscita postuma nel 1963, e che vi leggo. Il più bello dei mari è quello che non navigamo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. Quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Grazie. Grazie, grazie Silvia. Penso che tu ci abbia emozionato con la E maiuscola, oltre che emozionare te stessa, che è una delle finalità dell'arte e dell'approcciarci all'arte. Ti vogliamo ringraziare per aver condiviso con noi queste tue sensazioni. Caspita, direi che l'arte che hai scelto ti rispecchia, rispecchia un lato del tuo carattere. E questo, devo dire che è un lavoro introspettivo, come dire. Già la scelta stessa è una questione di scelte, di scelte personali e di anima. Grazie. Vorrei allora passare la parola al nostro Roberto Dottorini, che vedo già pronto. Sei pronto? Sono pronto. Ok. Roberto è uno dei nostri più cari amici, ci segue da molti anni e lui collabora con un'altra associazione culturale che è il Tecno 3, però ci dona anche parte del suo tempo e della sua simpatia, che è a volte travolgente. Spesso io e lui ci sentiamo, nei momenti in cui si poteva, per pensare e riflettere insieme delle gite, quindi è, come dire, fonte anche delle nostre gite culturali. La cosa che amo di più di Roberto, spero che non mi senta, e che è una persona molto sincera e che ama terribilmente l'arte, però lui la va a vedere l'arte, che è uno, come dire, degli aspetti migliori di potersi confrontare direttamente con l'arte. È uno anche delle cose che amo particolarmente anch'io. Quindi penso che la sua scelta sia condizionata anche dai suoi viaggi. Dimmi se è così, Roberto. Sì, certo. Buonasera a tutti. Come ultimo relatore, dopo quelli precedenti, cercherò anch'io di essere abbastanza breve, ma devo dire che ho preferito privilegiare le immagini anziché il parlato, perché ho sempre un po' di problemi legati alle corde vocali e quindi cercherò di essere più illustrativo che discorsivo. Dunque, intanto le cose che vi faccio vedere sono cose che ho visto, appunto in occasione dei viaggi, quindi la prima che inizieremo da un'opera medievale che ho visto a Colmar e poi la seconda invece è legata al viaggio fatto nel 2019 a Dorvieto e l'ultima e invece è un'opera del Settecento per un viaggio fatto a Napoli nel 2017. Quindi inizierei con la prima, per cui condividiamo lo schermo e vediamo cosa salta fuori. Iniziamo con l'altare di Isenheim, Isenheim o Isenheim a seconda della pronuncia francese o tedesca, che c'è a Colmara. Allora, questo altare fatto da Grunewald, pensate, è stato fatto tra il 1512 e il 1516 e in quel periodo, dunque intanto è stato definito la Cappella Sistina dell'Europa, dell'Europa del Nord, in quel periodo c'era Michelangelo che stava dipingendo veramente la Sistina. Quindi pensate, vedrete adesso la differenza enorme tra le opere e pensate che pochi anni dopo ci sarà Lutero che pubblicherà le 95 tesi del suo movimento protestante. Quindi è una cosa che avvolge una serie di avvenimenti che tra di loro veramente non hanno nessun legame, insomma. Allora, questo altare mi ha veramente lasciato senza parole, perché dunque intanto l'autore è questo Grunewald ed è quello a cui è stato attribuito non da molto tempo quest'opera, perché in realtà prima pensavano fosse stato un'opera di Membling, Dürer, eccetera, e poi in realtà hanno attribuito finalmente a lui questa opera. Un'opera monumentale che vi faccio vedere ed è un politico realizzato in vari scomparti. È largo sei metri, è alto più di tre metri ed è composta da una serie di ante un po' fisse e un po' mobili che raffigurano le scene appunto legate alla crocifissione e alla resurrezione di Cristo. È ambientata dentro questa chiesa sconsacrata, questo museo di Unterlinden, che è anche un monastero, un convento ed era anche ai suoi tempi un ospedale. Le ante si aprono come fosse un libro d'arte, quindi qui c'è un'illustrazione che è così per sommi capi. Tra l'altro questa illustrazione è stata usata per farne un francobollo e questa opera è stata commissionata dal priore del monastero di Isselnheim e appunto è composta da quattro grandi ante mobili, due sportelli fissi e una predella. Adesso vediamo velocemente perché purtroppo qui siete tiranni e io devo adeguarmi chiaramente ai tempi. Allora qui si vede il politico come si presenta quando è chiuso, quando sono state aperte le prime ante e poi la parte posteriore. Allora, la prima parte che colpisce è questa, sicuramente un'opera straziante dove si vede a sinistra San Sebastiano, poi c'è la crocifissione e a destra Sant'Antonio. Sotto vi è la deposizione. La deposizione è molto spostata verso destra perché deve cercare di equilibrare la scena superiore che è molto più ricca nella parte sinistra, quindi vedete che c'è la Madonna, la Maddalena, San Giacomo, eccetera. Quindi per dare un equilibrio stilistico hanno messo questa predella spostata un po' verso destra. Allora, le persone raffigurate hanno dei particolari raccrapiccianti, quindi vi dico se mi ha coinvolto proprio da un punto di vista emotivo è proprio vedere questo Cristo, questo Cristo flagellato con una corona di spine incastrata nella testa. Vedete le mani che hanno questa forma quasi deturpata, la mano sinistra, la mano destra che vedete di qua, che sono terribili e poi i particolari sotto vedete che c'è la Maddalena che sta pregando. Qui ci sono le mani della Madonna che sono trattenute qua sotto da San Giacomo che cerca di darle conforto. Ma c'è anche una scritta qui, una scritta che adesso devo trovare, che dice bisogna che egli cresca e io diminuisca. Questa è una scritta tratta dal Vangelo di San Giovanni ed è appunto detta da San Giovanni Battista. E poi vedete qua, ecco questo è il viso di Cristo, vedete che le labbra sono già violace, una morte ormai avvenuta da tanto tempo, i segni delle frustate, dello scudiscio, queste spine lunghissime che addirittura si incastrano dentro alle spalle. I piedi, i piedi si sono accartocciati, sono addirittura, diceva secondo un testo, che si erano rivoltati dall'altra parte, avvolti attorno ai chiodi. Quindi una cosa molto drammatica. Poi lì lo vedete in questo edificio dove c'è una musica di sottofondo che vi prende assolutamente. L'altra vista di questo politico è questa dove si vede che c'è l'annunciazione, poi l'allegoria della natività e la resurrezione. L'annunciazione, vedete un dipinto molto luminoso con questa povera fanciulla che deve prendersi questa grande responsabilità mentre sta leggendo dei testi sacri. Invece l'allegoria della natività è più complessa perché vedete che rappresenta all'interno del duomo di Breisac mentre un angelo biondo suona la viola e dietro c'è un concerto di tre angeli che annuncia la nascita di Gesù. Vedete i particolari, qui c'è la tinozza con il telo di lino che serve per lavarlo, con la brocca per poterlo lavare eccetera. Quindi anche questa è molto diversa dal Cristo che avete visto prima, però ha una sua narrativa. E qui c'è un'esplosione di luce perché c'è la resurrezione o è addirittura una trasfigurazione, l'ascensione di Cristo. Quindi Cristo che tende a dissolversi in un'esplosione di luce soprannaturale. Vedete questo alone di rosa, di rosa rosso con l'aureola azzurra e lo stesso azzurro che lo accompagna in questo telo nel quale lui era stato avvolto. C'è ancora un'altra pala che è questa, l'ultima, dove c'è a sinistra, vedete, c'è, ci sono le Sant'Agostino e San Gerolamo e qui ci sono le tentazioni di Sant'Antonio. Però torniamo indietro, eccola qui, Santi Eremite Antonio e Paolo. E dice qualcuno che nell'eremite Antonio ci sia da riconoscere proprio il committente dell'altare, cioè l'abate Guido Guersi. Vedete questo Paolo che ha il vestito fatto praticamente di foglie e in mezzo c'è questo cerbiato delizioso. Poi a destra invece le tentazioni sono una rappresentazione terribile perché Sant'Antonio è protettore dalla peste, quindi qui è stato visto come ha salito da questi mostri e qui a sinistra vedete poi il particolare di questo appestato che è pieno di buboni, ma in realtà la peste era identificata come non soltanto quella che noi intendiamo adesso, però la peste era un po' tutte le malattie, quindi la peste, il colera, eccetera, erano tutte rappresentate da questi esseri deformi, cioè il termine fuoco di Sant'Antonio indicava anche malattie diverse, ma caratterizzate da questi rash cutanei con formazione di pustole pruriginose e quindi anche l'herpes zoster, l'ergotismo, l'erisipola, erano tutte ritenute malattie identificate come il fuoco di Sant'Antonio. Poi per finire al centro c'è questa bellissima scultura in legno dorato che è stata fatta da Nicolas de Augenauer dove c'è Sant'Antonio a bate, Sant'Agostino al centro e San Girolamo a destra. Questa è la seconda opera, viaggio a Orvieto, chiaramente la solita facciata meravigliosa, ma all'interno gotica, qui siamo passati dal Medioevo al Rinascimento, vedete una facciata gotica e all'interno entriamo in questo bellissimo scorcio con la solita architettura bianca e verde di questi edifici della Toscana e andando avanti noi troviamo sulla destra la Cappella di San Brizio, una cosa fantastica che vi toglie il fiato quando entrate, un'opera iniziata da Beato Angelico e da Benozzo Gozzoli nel 1447 ed è stata completata da Luca Signorelli. Queste vele sono state fatte appunto, le vele sono di Benozzo Gozzoli e Beato Angelico che ha anche dato l'interpretazione teologica di quello che è stato poi dipinto. in questa cappella il Benozzo Gozzoli qui ha fatto delle cose strepitose. Allora, i dannati all'inferno, lui ha praticamente toccato 4-5 temi in questa decorazione che non vi faccio vedere tutti ma c'è praticamente tra i principali la resurrezione della carne, i dannati, i beati in paradiso e l'inferno. Quindi iniziamo da questo inferno che è stata la prima ad essere dipinta e che fa vedere intanto questi diavoli che hanno le terga verdi e che verdi o viola o grigie perché è un colore della cattiveria. Quindi vedete che ci sono i diavoli che prendono proprio, rubano questi dannati per portarsi all'inferno. Addirittura quella più significativa è questa poveretta che viene presa sulle spalle da questo demone e viene portata via. Addirittura qui ci sono altre immagini, i dannati sono abbrancati, legati, picchiati selvaggiamente, brutalizzati, strangolati, arpionati. Vedete la naturalezza di questi dipinti che danno proprio l'idea di questa tragedia che è in atto e poi c'è questo che è carino, c'è questo diavolo che morde il lobo dell'orecchio di questo poveretto mentre questo diavolo qui se ne prende una un po' formosa e se la porta da qualche parte. Ci sono ancora qui altre parti di questa scena infernale, mentre invece bisogna poi pensare che c'è un paradiso, quindi gli eletti che hanno avuto il privilegio di salvare le proprie anima, il proprio corpo, possono guardare tranquillamente verso il paradiso, guardare dal paradiso verso Dio e quindi sono nudi, sono nudi ma sono salvi, sono contenti, sollevati, pieni di gratitudine. Ci sono questi due beati caduti in ginocchio che vengono aiutati da questo angelo a risollevarsi e hanno tutti questo viso sereno, guardano tutti verso l'alto perché di lì arriva la luce che li ha salvati. Poi vi è la risurrezione della carne, quindi dopo il giudizio universale chi si salva esce dalle proprie tombe. Ma il signorelli ha concepito in maniera originale la risurrezione dei corpi, non li ha fatti uscire dalle tombe ma i morti spuntano da un terreno bianco e liscio e si riprendono la pelle e le ossa reincarnandosi in giovani nel fiore del vigore fisico. Adesso vedete i particoli, sembra proprio che facciano fatica a uscire da dove erano, dalla terra, dall'aldilà perché vedete qui come è riuscito a creare questi personaggi che stanno cercando di uscire fuori dalla situazione precedente. Quindi tutti i risorti hanno la stessa metà, medesima età giovanile, la stessa vigoria e l'armonia della perfezione dei corpi che si sono liberati da malattie e imperfezioni. Qui c'è un'altra scena e poi abbiamo la predica e la punizione dell'anticristo, questo grandissimo affresco dove qui vedete che c'è l'anticristo, c'è il diavolo che sta suggerendo all'anticristo delle parole, ma i personaggi evidentemente sono vestiti nel modo rinascimentale, ma quello che poi si può vedere qui per esempio Cesare Borgia e Enea Silvio Piccolomini e Baglioni che era un aiutante del pittore, ma soprattutto ci sono questi due personaggi che ci sono stati ritratti qui nell'angolo che sono Luca Signorelli e il Beato Angelico. Quindi Luca Signorelli è come un regista che sta osservando la scena che lui è riuscito a comporre e il Beato Angelico che è stato il suggeritore teologico, diciamo, di Luca Signorelli e quindi gli ha ispirato la formazione di tutti questi affreschi. Vedete qui Luca Signorelli in questo ingrandimento e il Beato Angelico alla sua destra. Ci sono poi anche delle piccoli riquadri dentro a questa cappella Abrizio dove si vede Stazio o Virgilio o addirittura Dante Alighieri. E con questo è finito il secondo intervento e scendiamo a Napoli. Arriviamo nel Settecento e quello che mi ha colpito tantissimo, penso che tanti di voi l'abbiano visto, è il Cristo velato che c'è nella cappella San Severo. Questo Cristo velato in marmo che ha qualcosa di incredibile. Allora la cappella San Severo vedete un'enorme realizzazione architettonica realizzata nel Settecento fatta realizzare da questo Raimondo di Sangro che ha affidato a Giuseppe San Martino l'incarico di scolpire il Cristo velato che è qui al centro. Vista dall'alto si vede tutto l'insieme di statue e questo Cristo velato quindi è tenuta in penombra proprio per dare ancora di più l'idea della suggestione di questa scultura. Raimondo di Sangro è stato un nobile, un esoterista, un inventore, un anatomista, un massone, uno scrittore, letterato accademico che cercava anche lui, faccia degli esperimenti stranissimi. Di fatti vi spiegherò poi anche perché hanno interpretato questa scultura in maniera sbagliata. Il nome di Raimondo è legato sicuramente a questa cappella che è il mausoleo di famiglia e che lui ha riorganizzato, abbellito appunto facendo scolpire questo Cristo velato. Eccolo qua, il Cristo velato, ma non so, ho dato dei colori ben diversi ma qui sta venendo fuori qualcosa di strano. Allora, il Cristo velato visto di sopra, vedete, è un Cristo ricoperto da un telo, quindi è come l'effetto bagnato che a volte noi otteniamo in spiaggia quando ci buttiamo le secchiate d'acqua addosso, ma qui ha tutta un'altra caratteristica. Quindi vedete che il Cristo è disteso, a fianco ci sono gli strumenti della tortura e Cristo è sdraiato su un materasso appoggiato a due cuscini, dove questo velo è talmente aderente al corpo che si riescono a vedere addirittura i segni del martirio. Si vedono a fianco i simboli del suo martirio, quindi le tenaglie, questo chiodo tutto storto che addirittura è stato messo con la punta che solleva una parte del velo che lo ricopre. I piedi sono rivestiti dal telo, ma si vedono addirittura i fori dei chiodi. C'è anche la corona di spine che sembra che abbia addirittura, se notate i particolari, le spine che si sono conficcate nel materasso. Poi non c'è soltanto questa nella cappella, ma al fondo ci sono due statue notevoli, una è la pudicizia che è stata fatta scolpire sempre con questo stile del velo che la ricopre, è stata scolpita da Antonio Corradini nel 1706 e qui vi è questo velo, dunque intanto questa poverina è la madre del principe di San Severo che è morta in tenera età, quindi la lastra spaccata indica chiaramente la sua morte prematura, ci sono i fiori attorno al suo grembo con lo sguardo perso nel tempo, l'albero della vita che è qua a fianco e la lapide spezzata con i simboli appunto della sua prematura scomparsa. Vedete qui i particolari, ci sono la lastra spezzata, la dedica sopra e poi la vista da sotto del velo che la ricopre. Alla sua destra c'è il disinganno, quest'opera incredibile che è stata scolpita da Queirolo, questo Francesco Queirolo nel 1753-54 che descrive un uomo che si libera dal peccato che è rappresentato da questa rete nella quale l'artista ha trasfuso tutta la sua straordinaria abilità. Addirittura lo scultore dovesse personalmente passare la pomice sulla scultura perché gli artigiani non se la sentivano per paura di romperla, quindi una cosa che sembra incredibile, nessuno direbbe che è fatta di marmo ed è una cosa veramente da vedere. I particolari, scusate, li potete vedere qui, quindi vedete la rete fatta in marmo, qui addirittura la rete va a incidere un po' la pelle della persona e qui vedete che c'è il particolare in cui si sta cercando di liberare da questa rete che lo intrappola, qui c'è un altro particolare e qui c'è il pezzo relativo alla sua mano. Quindi questa è l'ultima opera che ho voluto presentarvi, spero di essere stato nei tempi e a questo punto chiederei di essere rimesso di nuovo in media. Sei ripassi, come dire, dalla parte degli ascoltatori, però prima volevamo veramente ringraziarti, hai esposto le tue opere in maniera professionale, quasi come se avrei dovuto... aver ascoltato così tante lezioni tra Tecno 3 e Amici dell'Arte ti ha, ahimè, formato in questo senso. Ti ringraziamo veramente moltissimo. Ti avete poi molto, ma ho fatto anch'io cosa ho potuto. Quello che traspare dalla tua, dalla tuo racconto è certamente l'amore per l'arte vista dal vero, il rapporto diretto di poter toccare l'arte e solo il viaggio ti può dare questa sensazione. Tante diapositive sono venute con dei colori sbagliati. L'importante erano le fotografie, poi le descrizioni, abbiamo sentito te che sei riuscito a raccontarle in modo così preciso. Volevo solo sottolineare, i nostri due ospiti vedono l'arte in maniera emozionale ed emotiva entrambi. L'uno perché può viaggiare tramite delle poesie, dei racconti, dei rimandi letterari. Invece Roberto ha sempre l'emozione, ma è l'emozione della scoperta, l'emozione del viaggio e l'emozione anche di stare tutti insieme davanti a un'opera d'arte. Quindi sono due modi diversi di emozionarsi, ma sempre tramite l'arte. L'ultimo ospite, che non è un ospite ma è la padrona di casa, è la nostra Antonella. Come vi ho accennato, il nostro format vorrebbe concludere ogni puntata con una indicazione di un possibile contenitore per queste opere. Naturalmente Antonella non conosce prima quali saranno le opere raccontate nella puntata, ma ogni volta troverà uno spunto per selezionare e farci conoscere un luogo adatto per il nostro museo immaginato. Alla fine ne dovremmo scegliere uno. Antonella, ti cedo la parola. Grazie, grazie a tutti. Sì, sono padrona di casa perché tratto di un contenitore, venite avanti, siete miei ospiti. No, al di là di tutto è un modo anche per me per giocare, per proporre, per anche un po' per andare a trovare dei posti particolari. E oggi, visto che è il 25 aprile, vi propongo la Borgata Paralupi in Vallestura, che è veramente un balcone affacciato alla pianura del Cunese, è un rifugio di montagna in Alta Vallestura, in provincia di Cuneo. Un luogo dove i partigiani di giustizia e libertà hanno fatto la resistenza e oggi è rinato grazie alla fondazione di Muto Revelli, che proprio parlò di Paralupi nella introduzione del mondo dei vinti. E così lo descrive. Le baite di Paralupi erano più povere delle isbe, quattro muri a secco, la porta così bassa che obbligava l'inchino, una crosta di ghiaccio per tetto, il vento, passando, lasciava nelle baite l'odore della neve. E proprio Paralupi, questa Borgata, ha proprio visto la vita dell'uomo cambiare nel tempo e sicuramente il momento della resistenza, cioè il momento in cui divenne il rifugio per questo gruppo di giustizia e libertà, la rese particolarmente importante e la rende oggi particolarmente importante. Ho cercato delle immagini anche di repertorio. Pensate che in questa brigata era composta da 149 persone, 86 operai, 26 studenti, 18 contadini, 6 professionisti, 5 impiegati, 4 artigiani, 3 ufficiali e 1 industriale. Per cui pensate come il discorso della resistenza, della libertà e della giustizia era davvero trasversale ed importante in queste terre che sono peraltro anche di confine, perché siamo proprio a Malestura, siamo ai confini con la Francia e per cui con un luogo di guerra importante. E andiamo avanti. La Borgata è stata disabitata per lungo tempo e proprio grazie, come vi dicevo, alla Fondazione Nuto Revelli è stata poi recuperata. E guardiamo come è stata recuperata. È stata recuperata con un'attenzione tipologica importante e unica, perché anziché pensare a una ricostruzione banale, si è ricostruito all'interno di quello che rimaneva delle antiche baite con legno di castagno, per cui un legno assolutamente locale, a chilometro zero come si dice oggi, sono state ricostruite queste baite e per giunta sono state ridestinate, per quanto possibile, a come erano state utilizzate dai partigiani stessi. Per cui, perché siccome attraverso il racconto dei partigiani sopravvissuti si è potuto ricostruire dove si mangiava, dove si facevano le riunioni, dove si dormiva, ecco che la Borgata è stata proprio, le varie baite sono state ridestinate, come allora, a essere la sala riunioni, perché in realtà la Fondazione Nutto Revelli promuove tutta una serie di attività culturali, ma anche dirette, importanti con le scuole di formazione, ha istituito un importante museo della memoria e legato alla resistenza, davvero importante e interessante, e poi c'è anche un ristorante che, tra l'altro, ha buone recensioni, per cui magari una volta con l'associazione potremmo pensare a una gita da quelle parti, c'è il Porto di Vinadio, ci sono molte cose nel punese, il punese è ricco di cose meravigliose, e per cui potremmo anche pensare a una gita da quelle parti, e poi ancora, giusto per non perdere di vista l'insieme della cultura e dei percorsi che queste vallate, questi piccoli paesi vogliono fare, Rittana, che è il paese di riferimento di questa Borgata Paralup, ha messo a punto, già alla fine, già con la sindaca Caterina Belmondo, già alla fine degli anni Ottanta, tutto un discorso interessante di recupero dei beni della cittadina, di Rittana e dell'intorno, proprio attraverso l'azione e la condivisione e il coinvolgimento di artisti contemporanei. E qui, proprio per cui sono stati fatti dei murales sulle case di Rittana, ma anche il percorso che lega Rittana a Borgata Paralup, ma non solo, anche alle Borgate all'intorno, sono stati messi delle piccole opere d'arte, delle piccole o grandi opere d'arte, come ad esempio questa che si rifà sicuramente alla Land Art. E voglio lasciarevi con questa immagine, questa immagine bella, nevosa, perché in realtà siamo in montagna, per cui anche in questo periodo del 25 aprile sicuramente c'era ancora la neve, con ancora alcune parole di Marco Revelli, che è il figlio, docente politologo, che inaugurò Paralup. Paralup è un luogo che nel corso del tempo ha vissuto diverse stagioni. È stato lungo un pascolo estivo da cui, in inverno, le popolazioni contadine migravano verso la Francia. Durante la resistenza è stata una cucina di democrazia per circa 150 ventenni di tutta Italia, che qui si radurarono per essere trasformati in partigiani. Poi, a partire dagli anni Sessanta e del Novecento, Paralup ha subito, come tutte le vallate punesi, un fortissimo spopolamento e dal 2008, grazie al suo recupero, sta finalmente vivendo la stagione del ritorno. E allora invito gli ospiti di questo nostro museo immaginato a pensare a dove collocare magari le proprie opere in questa borgata, che ha anche tutto un intorno meraviglioso di paesaggio, oltre a essere un grande ricordo nella memoria storica italiana, è un bellissimo luogo, comunque, delle vallate punesi. E con questo vedete che io invece sono stata velocissima, vi saluto caramente e ringrazio tutti, grazie davvero. Bene, ti ringraziamo Antonella. Una delle possibili mete per non solo il nostro museo, ma anche per la nostra associazione. E certamente continua il connubio fra ricordi, arte e soprattutto riuscire a salvare insieme a una borgata anche dei ricordi, anche dei frammenti di storia, ma sostanzialmente sono i frammenti che fanno la storia, però vanno cuciti bene e vanno soprattutto resi leggibili per tutti quanti. Bene, con queste bellissime immagini, io vi ringrazio per aver avuto la pazienza, la voglia di condividere con noi questa ora e qualcosa. Ringrazio i due oratori che per la prima volta si sono cimentati con noi. Ancora una volta Silvia e Roberto, grazie. Ringrazio Feliciano che è sempre in cabina di regia. Vi ricordo che la prossima volta ci vedremo, ci ascolteremo e ci vedremo il 23. Abbiamo una puntata densissima con dei giovani e con dei sempre giovani. Il 9 maggio. Il 9 maggio, scusate. Il 9 maggio con giovani, giovanissimi e con tante nuove idee. Vedo Rosita già preoccupata. Un caro saluto a tutti voi e state al sicuro, ma torneremo a vivere. Forza e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.